Benvenuti, bentornati sul mio canale. Siamo alla sesta puntata ormai di questo ciclo di lezioni dedicato al Tractatus di Wittgenstein. Sono passati due mesi, quasi due mesi dalla quinta lezione e ringrazio tutti i nuovi iscritti che hanno pazientemente atteso la data di oggi e la pubblicazione quindi di una nuova lezione. Bene, cominciamo con questa proposizione, ve la metto sullo schermo e leggiamo che la prima parola è, bellissimo verbo, percepire. Abbiamo già detto tanto nella seconda lezione ma anche nella prima che il rapporto c'è effettivamente tra la filosofia del linguaggio di Wittgenstein, se così la vogliamo definire, e la fenomenologia. Quindi torneremo su questo argomento proprio alla luce del verbo che vediamo all'inizio di questa proposizione. Percepire un complesso vuol dire percepire, lo ripetiamo, che le sue parti costitutive stanno in questa certa relazione l'una con l'altra. Questo spiega anche la possibilità di vedere in due modi come cubo, la figura e qui c'è la figura, e tutti i fenomeni simili, poiché in effetti noi vediamo appunto due fatti differenti. Se io guardo prima gli angoli A e solo di sfuggita gli angoli B, appare A davanti e viceversa. Ora abbiamo letta, torniamo una lettura più attenta, vediamo subito che è ripetuto due volte il verbo percepire e subito dopo c'è il verbo vedere e avete visto poi quando scrive tutti i fenomeni simili, quindi sta usando sicuramente un lessico abbastanza vicino a quello che è il lessico fenomenologico, laddove percepire, vedere, laddove vedere richiama il video or latino, il verbo deponente che vuol dire sembrare, ma nel senso sembra a me, cioè lo percepisco io, sembra che una cosa sia così, quindi parliamo sempre di una percezione del soggetto appunto che percepisce. E poi abbiamo proprio fenomeni, quindi richiama il verbo greco, fainomai, l'apparire, ciò che si mostra ciò che a noi appunto appare, quindi ci muoviamo in quell'orizzonte lì. Ecco, Wittgenstein quindi sta cercando di dare conto, filosoficamente dare conto, cioè spiegare il logos di questo rapporto che il soggetto conoscente ha con i fenomeni e qui abbiamo anche proprio un fenomeno a noi manifesto proprio su carta perché c'è questo disegno di questo cubo che serve da esempio a farci meglio capire che cosa intende con questa proposizione. Parliamo di percepire un complesso, ecco questo richiama un pochino il concetto di sintesi fenomenologica, cioè il fatto che le nostre percezioni non sono mai unitarie, sono sempre un intreccio, un complesso di appunto un qualcosa che non è semplice ma è costituito di elementi costitutivi appunto elementari che nella nostra percezione vengono quindi messi a sintesi e appunto da noi elaborati, da noi percepiti, da noi conosciuti. Quando spiego questa cosa trovo sempre molto efficace proporre l'idea della collana di perle, immaginatevi una collana di perle, voi non percepite singolarmente tutte le perline, le mettete insieme e dite questa è una perlina più un'altra perlina più un'altra perlina più un'altra perlina ancora, no dite vedo una collana di perle, significa che la vostra coscienza fa un'operazione di messa a sintesi di un complesso, nessuno vedendo una collana di perle dice vedo un filo e 30 perline attaccate l'una all'altra chiuse con appunto una chiusura in acciaio, no dite direttamente vedo una collana, funziona sempre con messa a sintesi di qualcosa che è complesso e costituito da una moltitudine, quindi è quella che banalmente possiamo chiamare con l'espressione latina un reduxio ad unum, cioè una riduzione ad un unicum, ad un complesso appunto unitario che armonizzi, sintetizzi e ordini la nostra conoscenza. Quindi percepire un complesso vuol dire percepire che le sue parti costitutive, ecco qui, stanno in questa certa relazione l'una con l'altra. L'autore quindi attraverso questa frase sta cercando di introdurci a notare insieme come anche la nostra conoscenza funzioni mettendo in relazione degli elementi e se ci fate caso anche il linguaggio funziona allo stesso modo perché abbiamo parlato nelle lezioni precedenti di come le proposizioni non siano altro che dei complessi in cui ritroviamo in relazione ordinata, rigorosa, tra loro degli elementi costitutivi, i nomi e questi sono il rapporto univoco, quindi uno a uno, con gli elementi costitutivi detti oggetti, oggetti semplici della realtà. Oltre quindi alla relazione fondamentale che dà luogo alla teoria della raffigurazione, la relazione quindi nomi e oggetti semplici, abbiamo anche la relazione non meno importante che gli oggetti semplici nel complesso che vanno a costituire hanno ovviamente tra di loro. Sta introducendo qui Wittgenstein l'idea che guardate che la relazione è alla base della teoria della conoscenza, della conoscenza stessa, della costituzione dei complessi che fanno poi parte, che sono appunto i fenomeni e fanno poi parte della realtà e di quei fenomeni, cioè le proposizioni, che fanno parte del nostro linguaggio. Quindi abbiamo un intreccio, se vogliamo, uso il termine platonico simplo che è tradotto in italiano intreccio, concetto caro a Platone sicuramente perché parlava dell'intreccio idetico dell'iperuraneo, ma anche a Husserl che parlava dell'intreccio idetico trascendentale, quindi queste idee immanenti alle cose che consentono appunto che le cose tra di loro, i fenomeni, siano connessi, quindi non fenomeni unitari isolati ed isolabili, ma un appunto un tessuto di fenomeni e questo permetteva al nostro Husserl anche di immaginare la vita, l'esistenza, l'esperienza dell'esistenza come un vissuto, quindi come un intreccio di tanti fenomeni, poi fanno parte dei fenomeni della nostra stessa vita, quindi anche la vita è un complesso ordinato di fenomeni che tra essi sono intrecciati. Ecco qui, quindi quando uso il termine intreccio, sottintendo tutta questa complessità appunto di un discorso storico-filosofico che da Platone va ad Husserl, Husserl era lettore di Platone, ebbene Wittgenstein qui sta cercando di dire un po' lo stesso, ovvero il linguaggio è una relazione perché non solo quando noi usiamo dei nomi, li usiamo in relazione a ciò che questi nomi significano, quindi in relazione a degli oggetti semplici che questi nomi appunto vanno a nominare, ma noi costruiamo relazioni tra questi nomi e quindi costruiamo proposizioni, i nomi sono sempre elementi costitutivi delle proposizioni, quindi è come se con questi mattoncini le mettessimo insieme e venisse fuori una casetta, la famosa casa del linguaggio, e la cosa interessante di tutto ciò è che anche nella realtà vi sono delle complessità che sono nate dalla relazione di questi elementi. Quindi il modo in cui è fatta la nostra conoscenza, cioè mette a sintesi degli elementi semplici, gli elementi conoscitivi, dei dati conoscitivi, li combina insieme e noi conosciamo. Il modo in cui è fatta la realtà, cioè ci sono fenomeni più semplici che danno vita, quando sono appunto intrecciati, a delle realtà complesse. Il modo in cui è fatto il linguaggio, quindi ci sono queste parole, questi nomi, questi elementi costitutivi che combinati insieme, questi segni, ecco, danno vita a una proposizione munita di senso, una proposizione che significa qualcosa ed è collegata poi alla realtà. Ecco, questi modi in cui è fatta la realtà, il linguaggio e la nostra conoscenza hanno sempre al centro la relazione. Quindi la relazione diventa una categoria, potremmo dire, una forma, ecco, forma nel senso di modo, un modo attraverso cui indagare la realtà, il linguaggio e la conoscenza, che quindi risultano anche qui intrecciate, interconnesse, non qualcosa che, quindi, nessuna di queste tre cose è isolata, isolabile dalle altre due. Questo, questa dinamica sopra spiega anche la possibilità di vedere in due modi come cubo questa figura, e torniamo a leggere esempio, tutti i fenomeni simili, perché in effetti noi vediamo appunto due fatti differenti, dice, se io guardo prima gli angoli A, quindi significa, se io mi soffermo a guardare solo gli angoli, quindi i vertici del primo quadrato, no? Perché il cubo, non so se vi ricordate, all'elementare, quando ti insegnavano, quando vi insegnavano quindi a disegnare un cubo, si partiva prima dal quadrato e poi si punta la matita nei vertici di questo primo quadrato, quindi A, si tira una lineetta obliqua che, alla cui fine genera il punto B, si tirano queste linee, così a partire da ogni punto A, dando vita a nuovi quattro vertici B e poi si uniscono con altre linee, quindi segmenti, ecco, questi nuovi punti e bien fuori il cubo, quindi gli si va a dare un'altra dimensione, la tridimensionalità. Ecco, Wittgesen qui vi sta dicendo, se tu soffermi la tua mente prima sui vertici A, tu noti prima che c'è quel quadrato, poi magari se invece ti focalizzi solo su quelli B, noti l'altro, poi il metti tutto insieme e ti viene fuori un cubo con le sue facce. È come se lui stesse seguendo quel processo che prima vi ho spiegato della costruzione del cubo, di come appunto noi lo disegniamo su carta. È come se quando noi vedessimo il cubo su carta, proprio disegnato, il processo conoscitivo e di percezione di questo cubo andasse di pari passo al processo con cui è stato disegnato. Prima vediamo un quadrato, poi notiamo gli altri elementi, vediamo l'altro quadrato dietro, li mettiamo insieme ed ecco che ci appare il fenomeno nella sua complessità. Cosa è importante di questa proposizione? Che magari è una prima lettura, eppure è abbastanza semplice da intuire, alla fine non è che sta dicendo qualcosa di così difficile, sta dicendo guarda se fai questo giochino mentale e ti fissi prima sui vertici A, tu magari puoi notare quel quadrato piuttosto che quell'altro di questa figura, ecco, e viceversa, quindi puoi tu giocare a decidere se guardare prima gli angoli A e solo di sfuggire agli angoli B, quindi ti appare davanti questo quadrato A oppure il contrario, quindi ti appare davanti, ti può apparire davanti anche il quadrato che sta dietro quello con B. Perché è importante questa proposizione? Perché ve la sottopongo ad analisi accurata? La cosa importante è che qui ti sta dicendo possibilità, ancora qui, siamo nel terreno della contingenza. Questo tractatus, tesi che ho portato avanti fin dalla primissima lezione, è l'opera filosofica, secondo me, che nobilita in tutto e per tutto la contingenza, la possibilità, perché la logica è il regno della possibilità. La possibilità di vedere in due modi diversi il fenomeno complesso cubo, scomponendolo nei fenomeni più semplici che lo costituiscono, quindi il quadrato e i cui vertici sono A o il quadrato e i cui vertici sono B, è una possibilità insita nel soggetto. È interessante, molto interessante questa cosa perché ciò ci dice che Wittgenstein ritiene che la conoscenza sia un processo che funzioni a partire dal soggetto. Cosa vuol dire? Che il paradigma gnoseologico, quindi il modello della conoscenza, perché la gnoseologia è il discorso sulla conoscenza. Lo schema conoscitivo, il paradigma gnoseologico, il meccanismo di conoscenza, secondo il nostro autore, parte dalla soggettività che percepisce e non tanto dal soggetto in quanto persona, ma dal soggetto in quanto sostrato, quindi base, fondamento, per delle facoltà. Facoltà conoscitive. Queste facoltà che possono essere messe appunto in atto dal soggetto, che ne è il sostrato in quanto possibilità conoscitive sono facoltà. Quindi la conoscenza è sempre un atto possibile, secondo Wittgenstein. Questo tipo di paradigma diciamo che è molto vicino ad un modo di intendere la conoscenza tipico dell'alto medioevo, il cosiddetto fenomenismo eidetico, cioè l'idea che il soggetto sia un fondamento, un sostrato, ovviamente sia anche una persona, un uomo, ma qua parliamo in termini gnoseologici, non etici, non politici, non religiosi, ci stiamo focalizzando strettamente sulla conoscenza, perciò uso questo lessico molto rigoroso. Ovviamente nessun uomo di nessun'epoca penserebbe che l'uomo sia soltanto un soggetto conoscente, ovviamente l'uomo è appunto un fenomeno complesso, qua ci stiamo focalizzando soltanto sull'aspetto conoscitivo, così come quando facciamo un discorso etico e parliamo del soggetto in quanto soggetto morale. Quindi parliamo del soggetto conoscitivo, questo soggetto è una sorta di sostrato, quindi una base, un fondamento, per un'attività conoscitiva che funziona con appunto la messa in atto di facoltà, facoltà conoscitive, quindi di possibilità di conoscenza. Questo aspetto significa che il soggetto si pone di fronte ad un ente da conoscere, una cosa che vuole appunto percepire, vuole conoscere, vuole capire, vuole imparare e mette in atto delle sue facoltà, quelle che ha a disposizione e quindi a seconda della facoltà che mette in atto, facoltà e possibilità in latino sono, la possibilità è la virtus, riprendiamo il linguaggio aristotelico, il concetto di atto e potenza, no? Quindi io metto in atto appunto una potenzialità, una facoltà, una virtus e avrò un atto conoscitivo che sarà adeguato, nel senso che sarà corrispondente alla facoltà che io ho messo in atto. Facciamo un esempio più banale perché sembra messa in questi termini un qualcosa di estremamente complesso, ma è ciò che facciamo tutti i giorni. Supponiamo di conoscere un gelato, quindi di mangiare un gelato a mango. Se anche tu ami il gelato a mango, metti un mi piace. No, è che vorrei capire effettivamente a quanti piace il gelato a mango, è buono il gelato a mango, è una mia personale ricerca, sto scherzando. Allora, supponiamo di mangiare questo gelato al mango. Conosciamolo, quindi, e mettiamo in atto una facoltà, quella del senso, perché ovviamente lo assaggiamo, ne sentiamo il sapore, quindi lo conosciamo attraverso una percezione sensibile, quindi capiamo che gusto ha, che consistenza ha, che temperatura ha, e tutto ciò che attiene al senso. Quindi il nostro atto di conoscenza sarà sempre conforme alla facoltà che abbiamo impiegato, quindi un atto di conoscenza sensibile perché abbiamo impiegato, quindi portato in atto, una possibilità, una facoltà, in particolare quella del senso. Poi, se vogliamo, non so, ragionare su cosa rappresenta per noi il gelato, possiamo usare un'altra facoltà, la ragione. Magari facciamo un ragionamento riguardo il gelato. Ragioniamo sulla temperatura del gelato che abbiamo percepito con il senso e perfezioniamo questo atto conoscitivo aggiungendovi delle operazioni che attengono a quest'altra facoltà, la facoltà della ragione. Impieghiamo questa possibilità e quindi ragioniamo sul fatto che, essendo il gelato appunto l'abbiamo assaggiato a questa temperatura, possiamo dedurre che se la temperatura esterna si alzasse, sicuramente il nostro gelato rischierebbe di sciogliersi perché si chiama gelato appunto perché è freddo e deve rimanere tale, altrimenti anche la consistenza che abbiamo prima appunto assaggiato ed esperito con la facoltà del senso, potrebbe non essere sempre uguale al momento in cui l'abbiamo assaggiata perché appunto il gelato potrebbe sciogliersi. Possiamo pensare che il gelato sia magari simbolo dell'estate, possiamo ragionare sul fatto che il colore del gelato a mango ci può ricordare la bellezza di un tramonto estivo e poi potremmo anche continuare e partire dal gelato magari avere delle operazioni cognitive più sofisticate. Quindi non so, magari qualcuno mangiando un gelato e concentrandosi su di esso potrebbe magari ricordare qualcosa della sua infanzia, gli potrebbe venire un'intuizione originale perché potrebbe non so, pensare di scrivere un libro o una canzone o una poesia sul gelato, quindi avere un'intuizione ecco anche poetica, quindi con un colpo d'occhio generale capire e catturare un'essenza del gelato e magari provare poi a parlarne, cantarne poeticamente. Leopardi ad esempio era un autore che parlava di questo colpo d'occhio come facoltà appunto intellettuale che è capace di fare in modo che il poeta viva un'esperienza diversa perché più ricca da quella che comunemente vivono gli altri uomini e grazie poi al suo talento poetico, quindi di poter cantare ecco di questa esperienza attraverso la sua poesia. Non so, credo di aver reso meglio l'idea con questo esempio. Abbiamo quindi, ragioniamo in un'ottica in cui il soggetto conoscente mediante le sue facoltà può accedere a livelli adatti di conoscenza via via sempre più ricchi, sempre più complessi, sempre più entusiasmanti, importanti, forse anche difficili e forse anche impegnativi perché più sono sofisticati questi atti di conoscenza a seconda della facoltà che viene impiegata più c'è bisogno quindi di uno sforzo per cui chi allena, chi potenzia le facoltà, le potenzialità ecco della propria mente può magari accedere ad atti conoscitivi migliori, ad atti conoscitivi più performanti e quindi avere una conoscenza sempre più perfetta mai compiuta mai perfettamente compiuta ma sempre perfettibile del mondo, della realtà. Quindi più lavori sulle tue facoltà conoscitive più i tuoi atti di conoscenza saranno efficaci e avrai sempre una più ricca conoscenza del mondo che ti circonda una sempre più piena consapevolezza della realtà. Questo modello conoscitivo dicevamo è tipico del periodo alto medievale perché la conoscenza è proprio intesa come una sorta di cammino di perfezione, c'è proprio un itinerario, un percorso formativo attraverso lo studio delle sette arti liberali, l'erudito che quindi si impegna, studia, cerca di aprirsi a tutti i tipi di conoscenza, si interessa a diverse materie, a diverse discipline, cerca di appunto sviluppare le potenzialità insite in sé, cerca di sviluppare, di migliorare le sue facoltà conoscitive e può così accedere a sempre una migliore conoscenza in un'ottica quindi di perfettibilità e messa in questi termini questo schema mentale, questo schema conoscitivo ha anche diciamo risvolto una ricaduta etico-sociale perché se uomini che hanno potenzialità differenti perché ogni appunto ogni soggetto conoscente sviluppa e allena, migliora, incentiva in modo sempre diverso, unico e speciale le sue facoltà conoscitive quindi non ci sono due soggetti conoscenti identici messa in questi termini perché magari uno ha una conoscenza più sensibile, un altro è molto più razionale, un altro magari è molto più intuitivo, quindi uno è conoscitore magari è un grande grammatico, uno è un grandissimo logico, uno è molto più ferrato su la matematica, l'aritmetica, la geometria, significa che gli ingegni di tutti sono diversi e sono tutti il frutto di una continua messa a punto, di una continua formazione che dura per tutto il cammino della vita e della conoscenza, della formazione e questa differenza di tutti deve essere come dire un propulsore alla ricerca in comunità, alla cooperazione perché magari a quello a cui non arrivo io con le mie facoltà ci può arrivare qualcun altro oppure se insieme uniamo le forze noi raddoppiamo le nostre potenzialità e quindi raddoppiamo l'efficacia dei nostri atti conoscitivi e quindi facciamo dei passi insieme verso la conoscenza. Nell'ottica alto medievale funziona un po' così e soprattutto questi autori, ricordiamocelo sempre, erano anche fervidi credenti quindi loro concepivano in questo modo la conoscenza, questo proprio da un punto di vista meccanico, ecco come funziona il paradigma conoscitivo alto medievale, quindi fenomenismo idetico è un po' così ecco spiegato in estrema sintesi e c'è anche però l'aspetto spirituale perché è un'ulteriore fonte di motivazione a conoscere perché l'uomo credente crede che quelle facoltà conoscitive quelle potenzialità che ognuno di noi ha e che sono per tutti diverse e diversamente applicabili nel corso della vita siano doni di Dio, quindi l'uomo è come se ricevesse da Dio dei talenti che deve sviluppare per rendere grazie a Dio che glieli ha quindi donati e poi cooperare con gli altri uomini per quindi generare una conoscenza comune, una conoscenza collettiva e giungere a delle conoscenze quanto più possibile probabili e universalmente condivisibili senza aspirare mai al fatto che queste siano perfette e incontrovertibili con tutti gli altri uomini, per tutti gli altri uomini. Quindi vi è sia l'aspetto meramente gnosiologico, teoretico se vogliamo, sia l'aspetto fortemente spirituale di cui questo paradigma conoscitivo è intriso perché è nato in un clima in cui appunto l'alto medievale, l'epoca alto medievale, vi era una perfetta coesione se non l'identità di questi due aspetti fondamentali per la vita e per la conoscenza dell'uomo, lato la ragione, l'impegno razionale, la conoscenza, la filosofia se vogliamo, la logica, la dialettica, l'impegno e l'impiego nella formazione dell'erudito di appunto queste conoscenze e l'afflato fideistico, la religione, la fede, la credenza, il trasporto verso Dio. Questo è un po' lo sfondo storico, filosofico, medievale, alto medievale per la precisione, non scolastico, da cui potremo partire nella nostra lettura e analisi di questa proposizione nello specifico perché Wittgenstein qua sembra proprio riproporre questo tipo di conoscenza, questo tipo di, questo tipico modo di intendere la conoscenza e il funzionamento della conoscenza che ha luogo nell'ambito della speculazione filosofica alto medievale. Quindi per intenderci prima della scolastica, prima dei i cosiddetti secoli della scolastica, quindi al 1200 e in poi, tredicesimo secolo scolastica, perché? Perché in quegli anni cambia il paradigma conoscitivo e mi soffermo su questo aspetto perché vi sono delle teorie che legano invece la concezione che ha Wittgenstein della conoscenza più legata e più vicina a quella della scolastica. Quella della scolastica va sotto una formulazione la cui prima parola è il termine adeguazio e questo termine adeguazio probabilmente è stato letto in una relazione, in corrispondenza molto vicino alla raffigurazione. Adeguazio, raffigurazione, quindi adeguamento, relazione, raffigurazione, rappresentazione, sembrano dei concetti forse vicini, simili e quindi ciò potrebbe indurre a far pensare che Wittgenstein concepisca la conoscenza più similmente a come la concepivano i medievali in epoca scolastica, quindi una conoscenza che riproponga la teoria dell'adeguazio, l'adeguamento dell'intelletto alla cosa. Questo discorso che vi sto proponendo serve ad arrivare a questo punto, cioè a dire, a partire soprattutto dalla lettura di questa proposizione, Wittgenstein sembra più vicino al fenomenismo idetico e non alla conoscenza intesa scolasticamente come adeguazio intellectus rei. Quindi questa detta in estrema sintesi, ma adesso osserviamo con uno zoom meglio tutto questo che ho appena sintetizzato e per farvi capire il senso di questa che non è una divagazione sulla filosofia del medioevo, è proprio il punto da cui dobbiamo partire per comprendere che significa per Wittgenstein conoscere. Vi avevo detto nella prima lezione che quella di Wittgenstein non è una filosofia del linguaggio nel senso della svolta linguistica di Richard Rotri per motivi cronologici e non è una fenomenologia perché non possiamo considerare, sarebbe impreciso considerare Wittgenstein un vero fenomenologo. Magari questa idea, questo collegamento con la fenomenologia scatta per gli autori, per gli studiosi che leggono il trattatus, proprio a partire da questo modo in cui Wittgenstein attraverso queste proposizioni, una di questo tipo, sembra adoperare un lessico fenomenologico, parla di percezione, di fenomeno, di complessità, sembra parlare della sintesi, della percezione, l'abbiamo appena visto. Ebbene, io ho il sospetto che invece questo lessico fenomenologico, che in realtà è più semplicemente lessico fenomenico, riprenda proprio un tipo di conoscenza e di modo di intendere la conoscenza che abbiamo detto essere vicina a quello che è il fenomenismo eidetico alto medievale. Quindi sarei resti a parlare di Wittgenstein come fenomenologo o fenomenologo del linguaggio, sebbene nelle ricerche filosofiche, l'abbiamo visto nella lezione precedente, vi sia più un approccio, un atteggiamento più vicino ad una fenomenologia del linguaggio, perché ci interessiamo dei modi, degli usi concreti del linguaggio, non parliamo del meccanismo logico, ecco, della teoria della raffigurazione e di tutte le tesi che troviamo qui nel Tractatus. Sono le stiga a parlare di Wittgenstein come fenomenologo? No, però parlerei alla luce di tutto ciò che vi ho detto di Wittgenstein come autore vicino, ecco, alle concezioni del fenomenismo eidetico alto medievale. Ma chiariamo l'altro modo di intendere la conoscenza, quello che abbiamo detto essere dell'adeguazio scolastico. Quindi torniamo su questo punto, spieghiamo qual è la differenza tra il paradigma conoscitivo alto medievale e quello invece basso medievale scolastico, se no facciamo un po' di difficoltà, e perché quello di Wittgenstein è stato accostato a quello scolastico e successivamente perché secondo me almeno non è proprio precisissima questa idea. Ora, la formula latina con cui il sistema conoscitivo scolastico è stato battezzato è l'adeguazio intellectus rei e anche qui c'è un po' una precisazione da fare, è adeguazio cioè adeguamento, intellectus è un genitivo e quindi dell'intelletto, rei potrebbe essere per via della delineazione, dell'uscita, tanto un genitivo quanto fondativo. Quindi alcuni traducono adeguamento della cosa e dell'intelletto e quindi come se vi fosse un et, adeguazio intellectus et rei, quindi significa che l'intelletto si adegua alla cosa che si adegua all'intelletto, cioè un adeguamento dell'intelletto e della cosa reciprocamente, tradotta in così, sembra che sia così, oppure abbiamo detto che questo rei può essere anche un dativo, quindi complemento di termine, adeguazio l'adeguamento, intellectus dell'intelletto genitivo, rei alla cosa, verso la cosa, nei confronti della cosa, cioè il termine su cui appunto finisce, termina, l'azione dell'adeguamento dell'intelletto è la cosa, quindi l'intelletto che si adegua alla cosa. Ora, dal momento che la teoria dell'adeguazio sposta l'accento non tanto sul soggetto che passivamente si adegua alla cosa, come nel caso del paradigma alto medievale, il fenomenismo ed etico, come abbiamo visto, no? Il soggetto, il suo strato, le facoltà, il soggetto al centro, le sue facoltà, i suoi atti conoscitivi nei confronti della cosa conosciuta. Qui abbiamo un capovolgimento, c'è la cosa conosciuta che appunto è al primo posto, che oggetto di conoscenza è dominante nella dinamica conoscitiva, potremmo dire perché influenza l'intelletto che ad essa passivamente si adegua. Per tale ragione, quindi per la spiegazione di questa dinamica, diciamo che la traduzione migliore è mantenere quel rei al dativo, adeguazio intellectus rei, adeguamento dell'intelletto alla cosa, non quindi adeguazio intellectus et rei, quindi intendendoli come due genitivi, perché non vi è reciprocità, la cosa non si adegua all'intelletto, è l'intelletto che si adegua alla cosa. La cosa rimane lì, si fa conoscere dall'intelletto. In questo meccanismo conoscitivo la cosa sta lì e il soggetto, l'intelletto conoscente, l'intellectus appunto, che cosa fa? Si comporta come una sorta di specchio riflettente, quindi riflette la cosa, come se l'assorbisse, la prendesse e quindi la cosa, perché incontra così il soggetto che è come se se la prendesse, no? La prendesse su di sé, la fa sua in un certo senso e subisce una sorta di energia, potremmo dire, dalla cosa, perché questa cosa che viene conosciuta nell'atto di conoscenza stesso, essendo conosciuta da un intelletto che adesso si adegua e la prende, la comprende, l'intelletto subisce un adeguamento anche nei termini di una formazione, cioè l'intelletto si forma conoscendo la cosa, la acquisisce, migliora. Quindi se nel precedente paradigma gnosiologico abbiamo l'intelletto che lavora, si forma, forma la sua conoscenza, studia, si impegna per dire impara la matematica per capire quella formula magari, no? Qui abbiamo invece il soggetto che è passivo, viene lavorato da ciò che conosce, viene agito, viene portato alla comprensione da ciò che va comprendendo. È come se, è molto più forte qui, è come se la conoscenza, l'oggetto della conoscenza, questa cosa a cui ci si adegua sia quel dono. La cosa, il mondo, la natura, la realtà, ci viene donata quindi dal creatore e noi siamo, la conoscenza stessa ci viene donata e noi siamo quindi lavorati dal processo conoscitivo rispetto al quale siamo passivi. Quindi non è un nostro sforzo, è un nostro sforzo passivo, cioè noi decidiamo di lasciarci agire da ciò che conosciamo e così la comprendiamo. Facciamo un passo indietro, non un passo avanti. Quindi se vogliamo da un lato nell'alto medioevo, quindi paradigma conoscitivo del fenomenismo e idetico, il soggetto è attivo e lavora per agguantare la verità della cosa, si impegna, cerca di fare appello a tutte le sue facoltà, potenzia queste facoltà per avere una conoscenza sempre più efficace perché le sue potenzialità e i modi attraverso cui può conoscere quella cosa sono un dono e in quanto anche credente l'uomo medievale quindi lavora, lavora su se stesso per sentirsi sempre più degno di una comprensione mai perfetta perché quella è una presunzione illogica, ma sempre appunto perfettibile nei limiti della sua finitezza di piccolo uomo, si impegna, si impegna per arrivare sempre più vicino alla verità. Facendo questo sforzo, formandosi e in questo riprende un modello di paideia, formazione, educazione filosofica, platonizzante, platonico, quindi per cui questo tipo di conoscenza alto medievale è anche detta influenzata dal platonismo perché già nell'epoca antica c'è questo concetto di impegno, di formazione. Nel mito della caverna di Platone lo schiavo che viene da una forza portato fuori dalla caverna poi vede la luce, deve lavorare per abituarsi a sopportare questa luce, prima riesce a guardare solo le cose riflesse, poi riesce a guardare le cose direttamente, poi la luce del sole, quindi fa tutto un lavoro su se stesso, tutto uno sforzo e poi torna da coloro che rimangono nell'ombra e desidera liberarli e lì capisce che quelli che non hanno fatto il suo lavoro, il suo sforzo di formazione, di paideia appunto filosofica, di conoscenza, non riescono a capire neanche di che cosa sta parlando, pensano che lui sia completamente impazzito, quindi c'è anche una distanza, c'è una differenza incolmabile, quindi si arriva alla rottura anche alla violenza perché Socrate quando racconta di questo mito al suo interlocutore nel dialogo nella Repubblica, che cosa fa? Lo fa ragionare sull'ipotesi che queste persone non capendo che cosa sta dicendo l'uomo che ha visto il sole fuori dal buio della caverna potrebbero arrivare addirittura ad ucciderlo, quindi si arriva allo scontro, alla polemica, al polemos che è la guerra, il conflitto per la differenza, per una differenza incolmabile, una differenza di esperienza perché sebbene talvolta, spesso qui su YouTube, il mito della caverna venga spiegato, divulgato anche in modo amatoriale come l'avventura dello schiavo che nasce diverso e decide così di staccarsi, liberarsi le catene da solo, uscire e andare a vedere il sole, nel testo originale l'uomo, lo schiavo che si libera, viene liberato malgrado la sua volontà, lui all'inizio soffre da morire perché viene accecato dalla luce, cioè cerca di tornare nella caverna, non vuole fare la salita, cioè c'è proprio, Platone parla di una salita ripida, usa due aggettivi per dire che è ripida e parla di una forza, usa il termine via che in greco è forza, è slancio, è qualcosa come la necessità che ti prende e non se ne importa del tuo volere, ti prende e ti porta, come se fosse destinato quest'uomo a vedere il sole e vive questa esperienza a suo malgrado che irrompe quindi nella sua esistenza di prigioniero, scopre la sua identità, capisce chi è perché questi uomini nella caverna non potevano neanche vedere loro stessi, cioè erano appunto, dice Platone, avevano le catene anche al collo, non riuscivano a girare la loro testa, non avevano, cioè si sentivano, parlavano tra di loro ma nessuno di loro sapeva di essere un uomo, non vedevano la loro immagine riflessa, quindi loro non hanno il concetto di identità, questo è molto forte all'inizio del mito della caverna, solo lui così uscendo, staccandosi, si vede, si scopre anche diverso dagli altri perché a renderlo diverso è proprio questa esperienza dell'uscita, questa esperienza non scelta da lui, quindi capisce che lui è diverso dagli altri e capisce la sua identità, cioè dice io sono quello che si è liberato e quindi Platone qui è come se insieme dicesse guarda fondi il concetto di identità a partire da quello della differenza e quello della differenza sempre a partire da quello dell'identità perché se lui scopre chi è lo schiavo che si è liberato scopre anche chi non è lo schiavo, non è più uno schiavo, è un uomo libero, è un filosofo perché ha fatto questo cammino di conoscenza perché il sole è metafora della verità, quindi lui sarebbe il filosofo nel racconto, nel mito della caverna. Quindi in questo racconto platonico c'è l'idea del cammino della conoscenza, della fatica della conoscenza e per questo diciamo che la gnosiologia platonizzante è una sorta di percorso progressivo, ecco, con delle tappe ben precise verso la conoscenza, verso la verità che non è mai dogmaticamente acquisita, è sempre perfettibile, è un cammino di scienza sempre perfettibile, ecco, però rigoroso, con dei metodi, con dei punti precisi, delle tappe necessarie attraverso cui passare. Questa idea del progresso conoscitivo trapassa da Platone anche in questa speculazione alto medievale, ecco perché si dice che la gnosiologia alto medievale è di stampo platonico, quindi o di matrice platonizzante, di matrice agostiniano platonizzante perché è Agostino che diciamo cristianizza alcuni concetti della filosofia platonica e quindi fa un po' da tramite, non solo platonica anche e soprattutto neoplatonica perché quest'idea dell'ascensione, del progresso conoscitivo, del cammino verso la verità, verso la luce, verso il bene, la metafora solare, no? Sono temi cari al neoplatonismo, quindi quest'idea è prima platonica, poi neoplatonica, poi trapassa in Agostino e arriva quindi a tutto l'alto medioevo. Rispetto quindi a questo mondo in cui la conoscenza è un cammino faticoso di formazione che il soggetto attivo fa su se stesso, per se stesso, con gli altri, insieme agli altri uomini che appunto tutti mirano alla verità che tornerà comunque ad essere più forte come impostazione nei secoli dell'umanesimo e del rinascimento, quindi declinato anche in quello che è in termini di un umanesimo, ecco. Nella scolastica, quindi nell'epoca in cui nascono le università e torna in occidente la metafisica di Aristotele, cambia il paradigma conoscitivo nei termini appunto di quella che abbiamo chiamato l'adeguatio intellectus rei, l'adeguamento dell'intelletto alla cosa. È molto molto diversa dal concetto di raffigurazione della picture theory di Wittgenstein, quindi abbiamo spiegato cos'è l'adeguatio intellectus rei per chiarire meglio, alla luce quindi di questa identità posta dobbiamo porre anche la differenza perché è appunto diversa dalla tesi per cui le proposizioni sono immagini della realtà, picture theory di Wittgenstein. Ora, nella gnosiologia scolastica basso-medievale abbiamo detto che la cosa è una sorta di luce e l'intelletto è come uno specchio che si fa superficie riflettente, non si fa sostrato per una potenza e per gli atti conoscitivi, ma è una superficie passiva riflettente che si lascia formare, quindi magari l'unica cosa che fa attivamente è attivamente scegliere d'essere passivo, quindi una passività consapevole ecco, si mette a servizio della cosa e riceve come una illuminazione e nella misura in cui si impegna ad essere totalmente passivo e a lasciarsi formare, conformare da questa conoscenza che proprio come una forma agisce e forma in forma, già se pensiamo al termine informare, noi un pochino possiamo notare che c'è tutta questa storia della conoscenza nello scrigno di significanza del verbo informare, cioè io mi informo significa che sto lì, apprendo la notizia e lascio che questa mi formi, lascio che questa faccia in modo che io la prenda e ci pensi, ci ragioni, decida se è una cosa buona, sbagliata, mi faccia una mia opinione di questa informazione, quindi cambia la mia vita, no? Come quando ascolto una canzone che prima non conoscevo e entra a far parte del mio vissuto e un po' lo cambia quel vissuto perché mi fa capire qualcosa che prima magari non avevo capito del mio passato, che ne so, quindi tutto quello che impariamo, tutto quello che conosciamo, c'è questa idea nel concetto stesso di informazione, quindi in questo senso passività, cioè disponibilità, ecco, potremmo chiamarla disponibilità, ricezione, cioè l'intelletto si rende quanto più possibile disponibile a conformarsi, si rende accogliente verso la cosa, così la conosce, così può dire di conoscerla, quindi è uno sforzo quasi di riduzione e in questo senso è vicino alla riduzione trascendentale all'epoca fenomenologica, quindi fenomenologia questa contemporanea. Quindi la cosa agisce, abbiamo detto, come una luce e l'intelletto è lo specchio. Non c'è una relazione univoca tra cosa e intelletto perché è l'intelletto che si adegua alla cosa, ma non può diventare identico in tutto e per tutto alla cosa. L'accoglie, la prende dentro di sé conservando ciò che è, quindi viene arricchito dalla cosa, non c'è una relazione, una corrispondenza. E poi non è reciproca questa corrispondenza, abbiamo detto, perché è l'intelletto che si adegua alla cosa. La cosa non si adegua all'intelletto, la cosa rimane quella che non può essere cambiata dal soggetto che la conosce, ma è il soggetto che la conosce che cambia grazie a ciò che impara di nuovo. Quindi la cosa è dominante, esercita un controllo, un dominio forte sull'intelletto che rispetto a tutto ciò è consapevolmente e felicemente passivo. Perché quindi quando si adegua nel migliore dei modi e nel meglio delle sue possibilità a questa cosa, riesce a riceverne la verità in modo sempre più efficace e quindi ne è felice, perché sente di conoscerla, sente di comprenderla. Vedete che in molti verbi italiani, comprendere, informare, intuire, come dire, portare dentro, no, guardare dentro. Guardare dentro e lasciarsi guardare da ciò che appunto portiamo dentro di noi è rimasta questa idea, c'è questa idea che la cosa che conosciamo eserciti un potere sul soggetto, è come un magnete, è qualcosa che ci attrae, qualcosa che motiva la nostra conoscenza e ci spinge a fare una tabula rasa e dire mettiamo da parte me stesso devo capire la cosa. Questo è un detto di bacone che Kant mette nella prima parte delle sue critiche, cioè in esergo, no? Silenzio su noi stessi, su noi stessi dobbiamo tacere, ci dobbiamo occupare della cosa. È un po' anche vicino quindi alla riduzione fenomenologica, all'epochè della fenomenologia contemporanea, questa, questa idea. Invece nella picture theory c'è una corrispondenza di uno a uno tra la realtà e il linguaggio, quindi è reciproca. La proposizione munita di senso è immagine di un fatto, fatto possibile e quando quindi questo fatto ha poi sussistenza diciamo che l'immagine descrive uno stato di cose. La proposizione è immagine di un fatto e il fatto è perfettamente da essa descritto e se cambia il fatto anche la proposizione deve cambiare perché se vuole continuare a essere immagine, descrizione, raffigurazione di quel fatto, se questo cambia, cioè se cambia lo stato di cose, deve cambiare anche la proposizione. Non c'è uno, quindi non c'è uno dei due che rimane intatto a prescindere dall'altro, non c'è uno che ha maggiore influenza sull'altro, il loro rapporto è di una relazione perfettamente bilanciata. La proposizione è immagine di un fatto possibile, quindi se io capisco una proposizione significa che non faccio la verifica empirica, non vado a vedere se quello che ho detto rispecchia la realtà, allora è vero, no. Quello che ho detto se può essere un fatto, quindi capisco che cosa accadrebbe se fosse vera, vuol dire che può essere una proposizione, immagine di un fatto possibile. Significa che io posso anche partire dalla proposizione e poi arrivare al fatto. Non c'è uno dei due poli di questo rapporto che ha dominio sull'altro. Io posso dire c'è il gatto sul tavolo, prenderlo da terra, metterlo sul tavolo e avere la corrispondenza. Oppure posso dire, vedere che appunto il gatto non sta sul tavolo e dire il gatto non sta sul tavolo e avere la corrispondenza. Quindi linguaggio e realtà si danno insieme, nel tractatus stanno così. Il linguaggio non è effetto della realtà e la realtà non è effetto del linguaggio, perché per Wittgenstein il rapporto causa-effetto non c'è. Invece nella conoscenza, nel paradigma conoscitivo dell'adeguazio, la cosa causa la conoscenza e gli effetti della conoscenza che raggiunge l'intelletto sono causati appunto dall'adeguazio. Per Wittgenstein il rapporto causa-effetto non c'è. Pitchard Theory no, non è adeguazio intellectus rei, ma è molto più vicina al fenomenismo idetico alto medievale e quindi questa proposizione è per questo motivo che è intrisa di fenomenismo e di lessico che diremo noi fenomenologico, ma questa non è influenza della fenomenologia contemporanea. Qui Wittgenstein probabilmente è influenzato da qualcosa che è molto più indietro nel tempo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.